Covid-19 in Sicilia, 501 positivi e 385 guariti, 9 vittime a Siracusa, 42 casi. Sono 501 i nuovi casi di Covid-19 registrati nell'isola a fronte di 26.376 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano 491, l'incidenza resta all'1,9%, esattamente come ieri. L'isola è all'ottavo posto per contagio, il primo c'è la Lombardia, il secondo il Veneto, il terzo il Lazio. Il quarto la Campania, il quinto l'Emilia Romagna, al sesto il Friuli Venezia Giulia, al settimo il Piemonte. Gli attuali positivi sono 9.734 con un aumento di 121 casi. I guariti sono 385, mentre si registrano 9 vittime che portano il totale dei decessi a 7.125. Sul fronte ospedaliero sono adesso 388, i ricoverati 6 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva sono 43, stesso numero rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province, Palermo 74 casi, Catania 153, Messina 133, Siracusa 42, Ragusa 21, Trapani 35, Caltanissetta 11, Grigento 30, Enna 16. Grazie. Grazie. Grazie.